L'Abruzzo vitivinicolo conta più di 15.000 aziende. L'anno 2023 sarà ricordato come catastrofico a causa della peronospora. Di fatto cancella dal mercato con un colpo di spugna qualcosa come 560 milioni di bottiglie di vino, un calo di produzione di circa il 70%. Le conseguenze economiche sono disastrose. Quanti sono i fondi stanziati dal governo e quanto il danno registrato in Abruzzo? Il fondo stanziato dal governo sono 7 milioni, il fondo stanziato dalla regione sono 5 milioni, il danno prudenzialistico stimato da tutti noi stamentone 380 milioni. Non è una conferenza di bandiera, ha rimarcato il presidente del consorzio tutela dei vini d'Abruzzo, non è una conferenza di colore. 12 sigle riunite in una stessa conferenza stampa, penso che sia un evento unico non solo a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale. Il 31 ottobre c'è un appuntamento importante con la regione? Sì, il 31 ottobre siamo stati convocati anche dalla regione, riparleremo di quello che però loro già sanno fondamentalmente. Ormai sono mesi che ci parliamo addosso e sono mesi che non esce realmente un indirizzo e soprattutto una meta chiara alla quale poter arrivare per porre, ripeto, rimedio a questa situazione catastrofica. L'appello a regione e a governo anche? Soprattutto al governo perché in questa circostanza i nostri amministratori pubblici e amministratori locali dovrebbero essere bravi a portare a Roma le nostre istanze. Messi di promessa, aspettative disattese, il settore vitivinicolo non può più certo attendere. Si dichiarano pronti facendo fronte comune per riconsegnare le tessere elettorali. Chiediamo con forza ancora di più che siano attivate delle misure a tutela del sistema vitivinicolo, a partire dalle piccole aziende agricole per passare alle cantine private e al sistema cooperativistico. Urge un'immediata soluzione per salvare tanti i nostri imprenditori della regione Abruzzo. E sugli strumenti le cooperative sollecitano quelli più immediati. Bloccare i finanziamenti che hanno le cooperative in corso per dare almeno questa liquidità, insomma le classiche misure che sono state adottate durante il periodo di Covid e poi strettamente connessa proprio alla gestione delle cooperative potrebbe essere la sospensione dei parametri che si applicano per valutare la mutualità prevalente almeno per due anni, in modo tale che noi riusciamo ad approvvigionare prodotto all'esterno anche da non soci e cerchiamo di mantenere quelle fette di mercato che in 40 anni abbiamo conquistato.